Tutte le nuove informazioni le stiamo facendo uscire fuori dai cassetti dei comuni, le stiamo mettendo su una piattaforma informatica e tra qualche settimana saranno disponibili online. Questo perché se si verifica una calamità non è che noi possiamo andare a prendere comune per comune, faldone per faldone, le carte piene di ragnatele dove andare a trovare quali sono le aree di emergenza, le aree di attesa, le aree di ammassamento. C'è quelle aree dove le persone e gli addetti al lavoro devono andare per poter organizzare l'emergenza. Noi stiamo rendendo queste informazioni fruibili online, collegandosi alla nostra piattaforma informatica, al nostro sito, si potrà verificare dove stanno le aree di emergenza, dove stanno le aree che sono fondamentali e vitali per gestire l'emergenza della protezione civile. Ma non solo, noi stiamo creando anche un'app, sarà possibile navigare così come si fa con Google Maps per esempio, verso le aree più sicure, verso le cosiddette aree di attesa. E quindi l'agenda potrà salvarsi la vita.